Come pulire le arterie con tre meravigliosi ingredienti. La salute delle arterie può risentire di un'alimentazione poco corretta. Con questa combinazione di ingredienti, è possibile depurare le arterie ed ottimizzare la circolazione sanguigna. Pulire le arterie è una classica espressione che usiamo spesso per parlare di un'operazione più concreta. Ridurre il livello di colesterolo e di trigliceridi nell'organismo. Questi lipidi si accumulano nel corpo man mano che invecchiamo. Mettendo in pericolo la nostra salute. Un'alimentazione scorretta e abitudini inadeguate, come uno stile di vita sedentario o alti livelli di stress, favoriscono lo sviluppo dell'ipercolesterolemia. Il colesterolo e di trigliceridi non offrono una sintomatologia concreta. Solo attraverso gli esami del sangue, scopriamo di aver superato la soglia di 200 ml di colesterolo o di 150 ml di dl per i trigliceridi. Senza dubbio, sarà il medico a decidere se vale la pena assumere farmaci o meno. Tuttavia, la prima cosa da fare è sicuramente modificare l'alimentazione. Per ridurre il livello di colesterolo e di trigliceridi, vi consigliamo di provare questo semplice rimedio a base di soli tre ingredienti. Lo zenzero, efficace per ridurre il colesterolo Sono molti gli studi che spiegano l'utilità del rizoma di zenzero al fine di ridurre i livelli di colesterolo nelle arterie. I benefici dello zenzero sono legati agli antiossidanti fenolici presenti nelle radici. Lo zenzero contiene antiossidanti come il BA e il BHT, molto efficaci per trattare la perossidazione lipidica che si forma nelle arterie. Lo zenzero è molto efficace per prevenire il danno cellulare provocato dal colesterolo e dai trigliceridi. Arresta l'accumulo di placche nelle pareti delle arterie, oltre a favorire un'adeguata circolazione sanguigna in tutto il sistema arterioso. 2. L'aglio Un nemico naturale del colesterolo e dei trigliceridi L'aglio è uno degli integratori naturali più utilizzati per ridurre i trigliceridi e il colesterolo. C'è da dire che l'aglio ha un effetto cumulativo, questo significa che comincia a fare effetto contro colesterolo e trigliceridi dopo minimo tre settimane di consumo. L'allicina è un composto caratteristico dell'aglio che oltre a conferirgli il tipico odore e sapore, consente di ridurre le placche di colesterolo che aderiscono alle arterie. I benefici dell'aglio per la salute cardiovascolare, inoltre, sono indiscutibili. È un antibatterico molto efficace, oltre ad avere proprietà diuretiche, depurative ed antisettiche. 3. Il limone Un rimedio naturale che non sbaglia mai a aumentare il consumo di vitamina C è un modo eccezionale per prevenire il colesterolo cattivo, LDL, e di trigliceridi. Vale la pena mettere in pratica questo consiglio e non c'è modo migliore se non provare questo rimedio a base di aglio, zenzero e limone. Il succo di limone naturale non solo apporta vitamina C, ma anche fibra, quindi è indicato per eliminare le placche nocive che aderiscono alle arterie. La fibra solubile del limone assorbe acqua nel tratto digerente e forma una massa viscosa. Gli acidi biliari che contengono colesterolo possono rimanere intrappolati in questa massa e poi essere facilmente eliminati. Non possiamo dimenticare la presenza di flavonoidi, soprattutto nella scorza del limone. L'effetto nel ridurre il colesterolo è straordinario. Come preparare un rimedio per pulire le arterie Ingredienti 1 tazza di succo di limone, 250 ml, 1 spicchio d'aglio 1 cucchiaino di zenzero fresco, 2 g, 1 cucchiaino di miele, 7,5 g, Procedimento È importante assicurarsi che l'aglio, il limone e lo zenzero siano biologici. In questo modo, potrete ottenere il massimo apporto di vitamine e minerali. La prima cosa da fare è spremere il limone. Poi, bisogna versare nel frullatore la tazza di succo di limone, insieme allo spicchio d'aglio, allo zenzero e al miele. Bisogna frullare fino ad ottenere un composto omogeneo. In particolare l'aglio e lo zenzero devono essere ben frullati. L'ideale è bere questo rimedio pieno di vitamine ed antiossidanti la mattina a digiuno. Potete seguire questo trattamento per 15 giorni, interrompere una settimana per poi riprendere. Noterete subito i miglioramenti e farete diventare questo rimedio una routine nella vostra dieta. Le vostre arterie vi ringrazieranno.